È l'anno del Covid-19, non c'è stato settore che, nel 2020, non sia stato toccato dalla pandemia. Guardando agli ultimi 12 mesi, tra vittime e lockdown, sembra quasi non si è successo altro. Eppure, anche ai tempi del mondo, in apparenza, sospeso per virus si sono vissuti eventi importanti, in alcuni casi storici. Eccone alcuni. Presidenziali americane Il 3 novembre si sono tenute le elezioni presidenziali USA. Il candidato democratico Joe Biden ha prevalso sul presidente in carica, il repubblicano Donald Trump. Si è trattato di una tornata elettorale caratterizzata da alcune peculiarità, una forte polarizzazione, concentrata sul pro o contro. Trump, una partecipazione senza precedenti nella storia americana e i tempi lunghi necessari per decretare il vincitore. L'ampio utilizzo del voto postale e le differenze risicate in alcuni stati hanno infatti costretto ad attendere diversi giorni prima. Di indicare un vincitore, nonostante le richieste di riconteggio e le minacce di ricorso alla Corte Suprema di Trump. Che così è diventato il primo presidente a mancare il secondo mandato dai tempi di George Bush padre, battuto nel 1993 da Clinton. Referendum sul numero dei parlamentari Il 20 e 21 settembre si è tenuto il quarto referendum costituzionale della storia repubblicana. È stato indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Il testo porta i seggi della Camera da 630 a 400 e da 315 a 200 quelli al Senato. Programmato per la fine di marzo e rimandato a causa del Covid-19, ha visto il si prevalere nettamente, con quasi il 70% delle preferenze. Negli stessi giorni del referendum si sono tenute anche le elezioni regionali in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Next Generation EU La nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, a un mese dal proprio insediamento, dicembre 2019, si è dovuta confrontare con la più grande emergenza nella storia dell'economia comunitaria. Buona parte dell'anno è stata trascorsa nel tentativo di trovare un accordo sul Next Generation EU. L'intesa è arrivata a dicembre e rappresenta un passaggio storico. Non solo per la capacità dell'intervento, un pacchetto di 750 miliardi, tra sovvenzioni e prestiti, che puntano ad ammortizzare l'effetto del Covid-19 e a velocizzare la conversione digitale e green, ma anche per le sue caratteristiche. Per la prima volta, l'emissione di bond europei si rivolge direttamente a capitoli di spesa precisi e non al sostegno degli stati. Il debito non è mai stato così comune. Brexit Il 31 gennaio 2020 si concretizza la Brexit. Il Regno Unito esce dall'Unione Europea. Sarà questa la data scritta nei libri di storia, anche se a decretare questo passo era stato un referendum del 2016 e anche se le conseguenze sono state minime. Si è infatti aperto il previsto periodo di transizione, durante il quale Londra resta nel mercato unico europeo e che si concluderà il 30 dicembre 2020. Cronaca, da Minneapolis allo spazio Uno dei fatti di cronaca che hanno segnato il 2020 è stato l'assassinio dell'afroamericano George Floyd, ucciso dalla polizia di Minneapolis durante un arresto. La morte ha rilanciato le proteste antirazziste, guidata dalle ultime parole di Floyd e Cantbreed, e dal movimento Black Lives Matter, che dagli Stati Uniti si è esteso su scala internazionale. Il 30 maggio la navetta spaziale Crew Dragon, realizzata da SpaceX, raggiunge la stazione spaziale internazionale con equipaggio a bordo. Gli Stati Uniti non erano in grado di lanciare astronauti nello spazio dalla cancellazione del programma Space Shuttle. Si realizza così uno degli obiettivi di Elon Musk. SpaceX è la prima società privata a fare da navetta spaziale per gli uomini della Stazione Spaziale Internazionale. Il 4 agosto due esplosioni devastano il porto di Beirut. Le immagini della detonazione e l'impressionante spostamento d'aria fanno il giro del mondo. L'area attorno al porto è distrutta. I morti sono più di 200. Le olimpiadi rimandate tra i tanti eventi sportivi rimandati causa Covid-19, spiccano, oltre agli europei di calcio, i giochi olimpici di Tokyo. La fiaccola dovrebbe riaccendersi nel 2021, ma resta un fatto con pochi precedenti, nella storia delle olimpiadi moderne, dal 1896. In poi, solo le due guerre mondiali avevano bloccato la manifestazione. Il presente materiale di marketing è emesso da PICTE Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.picte, o in forma cartacea presso PICTE Asset Management, Europe, SA, 6B, Rue du Fortnieder-Gwenhoed, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni d'investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.picte nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICTE Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuirevi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management, PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE unicamente per finalità illustrative.